Come da tradizione della collettività venafrana, il giorno di lunedì in Albis vengono popolati gli uliveti in località Campaglione, allo scopo di trascorrere una giornata festosa in compagnia e con buon cibo. Tale usanza venafro prevede il ripetersi della scampagnata nella giornata di martedì in Albis, nota anche come Pasquetta venafrana. Una tradizione radicata nella popolazione, nata in tempi antichi quando il lunedì era dedicato al pontificale, la messa ufficiata dal vescovo nella cattedrale. Così nacque il cosiddetto convivio, la Pasquetta del giorno dopo. Immersi negli oliveti secolari a ridosso della cattedrale, i venafrani hanno festeggiato con carne alla griglia, dolci tradizionali e buon vino. Giovani e meno giovani tutti insieme a mantenere vivo il rito venafrano tra allegria e divertimento. E per preservare tutta l'area da ogni tipo di rifiuto abbandonato, il sindaco di Venafro Alfredo Ricci ha posto dei divieti per queste due giornate con limiti alla circolazione lungo il tratto della stradina montana che attraversa la località Campaglione. Poi le raccomandazioni ai più giovani, spegnere eventuali braceri e lasciare pulita e libera da rifiuti di qualsiasi genere l'area che è stata occupata per la scampagnata.